La programmazione online del Teatro San Carlo di Napoli prosegue in questo momento di emergenza sanitaria per continuare a regalare emozioni al pubblico di tutta Italia. Il calendario prevede una serie di concerti e ulteriori spettacoli a partire da inizio dicembre 2020 fino a gennaio 2021. Tra questi la tanto attesa e celebre Cavalleria Rusticana e anche il Canto di Natale per arricchire le prossime festività natalizie. Gli spettacoli si possono vivere direttamente sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo dove è anche possibile acquistare i biglietti. Per lo spettacolo Cavalleria Rusticana grazie alla partnership col popolare Social Network si pagherà soltanto per tre giorni dal 4 al 7 dicembre una quota simbolica di euro 1,09.